Un pezzo dello Stato che agisce contro l'interesse dei cittadini, il cui interesse invece dovrebbe tutelare. E questo è incomprensibile. Dopo le sentenze di risarcimento impugnate dall'Avvocatura di Stato per le stragi naziste del 1944, adesso è arrivata anche l'eccezione di prescrizione civile sollevata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo stesso MEF che teoricamente dovrebbe ripagare gli eredi delle vittime di allora attraverso il fondo previsto in un capitolo del PNRR. E' quanto accaduto al signor Sestilio, supersite del massacro di Civitella, quel 29 giugno del 1944 aveva appena 4 anni. Era presente, perse il padre e questo fa ancora più male francamente perché è incomprensibile quello che si sta facendo. La sentenza definitiva di Cassazione sulla strage di Civitella nella quale persero la vita 244 persone risale al 21 ottobre del 2008. Al signor Sestilio è stato riconosciuto un risarcimento e dopo che abbiamo avanzato la domanda di liquidazione del danno da parte del fondo, il Ministero dell'Economia ha eccepito la prescrizione. In quanto secondo il Ministero avrebbe dovuto eseguire la sentenza di condanna nei confronti, a questo punto, degli eredi del militare condannato, nei dieci anni precedenti. Questa decisione non è solo tecnicamente errata, ma sotto un profilo politico-morale è un qualche cosa di molto grave. Il timore adesso è quello dell'effetto a catena. La sentenza per l'accidio di Falsano nel Cortonese infatti del 2006, dell'anno successivo quella di Sant'Anna, la più grave dell'intera Toscana con oltre 500 vittime. Francamente questo ostruzionismo che stiamo misurando sia nelle aule giudiziarie che in questa occasione con la domanda di liquidazione di un danno già liquidato è un qualche cosa che stride con la decisione che era stata assunta solo due anni fa di istituire questo fondo. Sappiamo in mezzo c'è stato un cambio di governo, sarebbe utile capire se vi è un ripensamento sulla possibilità che finalmente sia messo un punto a queste vicende o se è solamente una questione tecnica e come tale vado affrontata. Io ho qualche dubbio che sia solo una questione tecnica. I familiari adesso stanno valutando il ricorso al TAR. Questo espone i familiari a ingenti costi, ad un allungamento significativo dei tempi e come tutti i processi li espone a delle incertezze. Quindi sono da valutare, da calibrare con molta attenzione le risposte ma certamente una risposta la daremo. Grazie.